numero 5 set bistro da tre pezzi di colore bianco include un tavolo pieghevole con superficie rotonda e due sedie pieghevoli grazie ai suoi gommini antigraffio il set da balcone può essere utilizzato anche in casa ed essere richiuso dopo l'uso per recuperare spazio realizzato in rattan sintetico resistente alle intemperie in stile elegante e raffinato facile da pulire questo prodotto non richiede prodotti particolari per la pulizia ed è estremamente stabile grazie alla struttura in metallo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 dona un tocco davvero unico agli ambienti esterni di casa tua con il nuovissimo set composto da un tavolo rotondo e due sedie pieghevoli con decorazione mosaico in terracotta questo fantastico set è realizzato interamente in metallo di altissima qualità verniciato a polvere in un elegantissimo colore nero le sedie sono completamente pieghevoli e salva spazio dal design elegante il set è perfetto per arredare qualsiasi tipo di spazio esterno dal più grande come giardini e terrazze a quelli più piccoli come balconi e terrazzini in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 set bistro composto da un tavolino e due sedie nel colore celeste pastello il set è realizzato in metallo addensato per una maggiore resistenza la sedia ha una capacità di carico massima di 120 kg il tavolo e le sedie sono pieghevoli lo schienale delle sedie è ergonomico per un maggior comfort questo set è impermeabile e ha una protezione antiruggine ottimo prodotto per qualità e prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 set bistro composto da due sedie e un tavolino rotondo con vetro nero in stile molto elegante grazie alle dimensioni poco ingombranti questo set è adatto anche per terrazze e giardini meno spaziosi il set in polirattan non solo bello e confortevole ma anche resistente alle intemperie perfetto per allestire il tuo spazio all'aperto le sedie non sono impilabili il set è realizzato in rattan sintetico di colore grigio con struttura in metallo il prodotto viene consegnato smontato il montaggio è facile e veloce se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 set bistro composto da due sedie e tavolo in acacia con cuscini bianchi per un maggior comfort le dimensioni del tavolo sono 72 centimetri di altezza 60 centimetri di larghezza e 60 di profondità il set in legno è utilizzabile su un balcone in terrazza o in giardino è pieghevole facile da pulire resistente alle intemperie ottimo prodotto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione